Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Axel e oggi seconda gara di campionato per quanto riguarda i Paro's Battle. Vi ho la sigla. Se già non l'avete fatto ricordate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like, commentate e così in iscrizione trovate il link per il mio profilo Instagram, vi invito a seguirmi. Oggi fra parentesi siamo a correre all'ex manicomio di Imola, location, un po' così, gasatissimo. Anche se fa veramente un freddo polo, vabbè iniziamo a correre perché sennò mi congelo. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, questa seconda tappa di campionato si conclude, è stato veramente bellissimo, molto molto stancante, ma bellissimo. Se già non l'avete fatto iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, commentate, qua sotto nella descrizione trovate il link per il mio profilo Instagram, mi trovate con un 8 megapixel. E detto questo noi ci vediamo ad un prossimo video che sarà lunedì prossimo alle 14 e mezza. Ciao!